Musica Ciao ragazzi e benvenuti su questa sera speciale degli SCP In questo video parleremo di Siren Head Ma chi è Siren Head? Dove si trova? Scopriamo l'insieme Per fare questa ricerca useremo l'SCP Foundation e dei video che abbiamo trovato sul Dark Web Siren Head è un SCP alto da 10 a 15 metri Alcuni avvistamenti dicono che sia alto 20 metri L'aspetto di Siren Head è uguale a quello di un albero rinsecchito Siren Head è molto aggressivo Siren Head si mimetizza tra gli alberi Però Siren Head può trasformarsi in un lampione Per poi attaccare le sue vittime Musica Sapete come fa ad attaccare le sue vittime? Distordisce con gli autoparlanti e le divora con le sirene Siren Head quando attacca emette un rumore molto speciale E noi abbiamo dei campioni Ora ve lo facciamo sentire Alcune persone sono riuscite ad avvistarlo E alcune anche a fotografarlo Siren Head secondo me Da una scala da 0 a 10 di paura Secondo me è 8 Siren Head